Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione del telegiornale. Ezio Greggio dice no alla cittadinanza onoraria di Biella. Il comune leghissa solo qualche giorno fa l'aveva negata alla segre. Rinuncio per rispetto della senatrice di ciò che rappresenta, ha detto il conduttore. Legge di bilancio. Oggi il via libera della Commissione. Per Conte il più grande taglio di tasse di sempre. Ma il Governo lavora ancora alla manovra finanziaria. Guglielmo Ferrazzano. Oggi l'ok dalla Commissione europea. Il commissario agli affari economici Pier Moscovici lo aveva già annunciato settimana scorsa. Non sono previste richieste di correzione dei conti né rinvia a nuovi giudizi. La formula della promozione di Bruxelles sarà quella di rito, che sottolinea un rischio di deviazione significativa dagli impegni per il 2020 e definisce la bozza sostanzialmente rispettosa delle regole. Il paro di Bruxelles rimane comunque puntato sull'Italia perché il debito pubblico continua a crescere. Se la manovra dovesse cambiare drasticamente rispetto alle misure attualmente previste, l'Unione potrà esprimere le sue valutazioni la prossima primavera. L'esecutivo giallorosso difende le misure dalla carica degli emendamenti. Sono oltre 4.000 i correttivi presentati in Senato, di cui circa 2.000 dalle sole forze di maggioranza. Si punta a una scrematura attraverso due criteri di selezione. Il primo è quello che prevede emendamenti definiti selezionati, cioè strategici e prioritari per le forze politiche. L'altro è quello dell'ammissibilità e sarà la Presidenza della Commissione Bilancio a utilizzarlo per tagliare gli emendamenti non compatibili con la manovra. Alleggerito il carico, si passerà a ultimare la plastic tax, la tassa sulle bevande zuccherate e quella sulle auto aziendali. Previsti interventi per gli enti locali, bonus per favorire i pagamenti elettronici e correttivi per far fronte all'emergenza climatica. Dalle bozze emerge anche un milione di euro destinato a corsi di formazione per docenti al fine di contrastare i fenomeni di bullismo. È il più grande taglio di tasse degli ultimi tempi, dice il Premier Conte, e gli fa eco il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, commentando «Noi le imposte le riduciamo sul serio». E' allarme lavoro in Campania. Licenziamenti, crisi aziendali e reddito di cittadinanza non fanno che peggiorare la situazione. Ce ne parla Gianluca Grasso. È sempre più evidente la recessione al sud e la drammatica situazione in Campania, dove lavorare sta diventando utopia. Banca Italia ha certificato che nel primo semestre del 2019 c'è stato un calo dell'occupazione dell'1,8% rispetto all'anno precedente. Un dato in contrasto con l'andamento nazionale, perché Mezzogiorno Italia fanno registrare salti positivi. Il credito alle imprese si è arrestato, frenando la crescita dei servizi e delle costruzioni. L'attività dell'industria campana prosegue a ritmi modesti, con un vistoso rallentamento rispetto agli anni passati. I settori produttivi di agricoltura, industria e edilizia risentono di questa crisi e segnano preoccupanti trend negativi. A dare respiro all'economia regionale, ci sono turismo e esportazioni, che riescono ad avere saldi di crescita positivi e in continuo incremento. Nel settore privato, molti contratti a termine sono diventati a tempo indeterminato, ma le continue crisi aziendali e licenziamenti stanno mettendo in crisi l'intero settore occupazionale, con la cassa integrazione, che è aumentata del 70%. Il reddito di cittadinanza influisce negativamente sulla situazione. In Campania è percepito da circa l'8% delle famiglie, il doppio rispetto alla media italiana del 4%. Spettacolo, Netflix al Pari Theater di Manhattan, in sala fino al 28 novembre, Marriage Story di Noah Baumbach, da New York, Maria Luisa Rescigno. Colpo di scena, Netflix, che dicevano avrebbe finito con l'uccidere l'esperienza cinematografica in sala, potrebbe invece salvarla. Con il supporto del Colosso dello Streaming, il Paris Theater di Manhattan riapre i battenti dopo la chiusura improvvisa della scorsa estate. La sala ospiterà il film Marriage Story, diretto da Noah Baumbach e presentato in concorso a Venezia 76, fino al 28 novembre. Dal 6 dicembre, poi, il film sarà disponibile sulla piattaforma anche in Italia, dove la distribuzione in sala è stata più che scarsa. Se sia solo una mossa promozionale o un tentativo di avviare un dialogo con la sala improntato al proporre anche lì le esclusive Netflix, con agevolazioni per gli abbonati, è presto per dirlo. Il Paris è caro alla New York intellettuale, che frequenta le sale de sé. E non solo. La biglietteria esterna appare nel film Io e Annie di Woody Allen, del 1977. La sala ha inoltre un elevato valore storico. Inaugurata nel 1948 con Marlene Dietrich a tagliare il nastro, è uno dei primi cinema inaugurati nel secondo dopoguerra. E se dovesse restare in vita, sarebbe l'ultimo cinema monosala di New York. Nel weekend riprende la Serie A. Arbitri e VAR ancora sotto i riflettori. Stefano Boffa. Dopo la sosta per i nazionali, ritorna la Serie A. Spetta la Juventus capolista inaugurare la tredicesima giornata di campionato nell'insidiosa trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, mentre spicca il big match di San Siro tra Milan e Napoli, le quali hanno bisogno di punti per uscire dalla crisi di risultati, con i campani a secco di vittoria ed addirittura quattro turni. Ha fatto scalpore l'intervento di Carlo Ancelotti durante l'incontro venuto ieri a Roma tra arbitri, allenatori e calciatori. Il tecnico del Napoli si è scagliato contro il VAR, ricordando al disegnatore Nicola Rizzoli, l'episodio del contatto Chier-Jorente in Napoli-Atalanta. Il coach di Reggiolo ha chiarito dicendo che può accettare l'errore umano dell'arbitro, ma non di quella tecnologia. Il disegnatore ha concordato sull'errore in occasione dell'episodio incriminato, ma ha tenuto a ribadire che deve essere l'arbitro il protagonista nel corso della partita e non il VAR. Caos in Lega Calcio per le dimissioni di Miccichè. Il servizio è di Ferdinando Damiano. La Lega Calcio si sfalda. Il numero uno Gaetano Miccichè si fa da parte. Il motivo principale della decisione sembra essere l'inchiesta nata dopo le dichiarazioni di Enrico Preziosi. Il numero uno del Genova ha sollevato dubbi sulla regolarità della sua elezione avvenuta nel marzo 2018. Sulla stessa lunghezza d'onda si era espresso anche il presidente della Lazio Claudio Lotito. La replica alle accuse non si è fatta attendere con l'ex presidente che ha sottolineato come la sua nomina avesse messo d'accordo tutti. Inoltre ha aggiunto che al suo arrivo la Lega era commissariata, disorganizzata e non efficiente. La sua azione, grazie alla collaborazione di tutti, stava cambiando le cose. Prima dello strappo definitivo Miccichè aveva anche incontrato Giovanni Malagò, numero uno del CONI, confidandogli questa sua intenzione. Nei prossimi giorni vi sarà un'alunione di Lega dove i club si confronteranno insieme all'amministratore delegato De Siervo per l'annosa questione dei diritti TV. Per questa edizione è tutto. In redazione Stefano Boffa, Ferdinando Damiano, Guglielmo Ferrazzano, Cecilia Gaudenzi, Gianluca Grasso, Maria Luisa Rescigno. Alla regia Massimo D'Argenio. Tutor Massimiliano Amato, Salvatore Biazzo, Mariano Ragusa. In segreteria Stefania Ferrigno. Alla regia Massimo D'Argenio Amato, Salvatore Biazzo, Mariano Ragusa. Alla regia Massimo D'Argenio Amato, Salvatore Biazzo, Mariano Ragusa. Alla regia Massimo D'Argenio Amato, Salvatore Biazzo, Mariano Ragusa.